E' stato incastrato dalle banconote segnate e dai poliziotti della squadra mobile che lo hanno arrestato durante la consegna del denaro. Lui un 72enne, Salvatore Giardina, già con dei precedenti penali, aveva preso di mira un panificatore, si è recato più volte nel negozio del malcapitato per chiedergli 2000 euro, anche con minacce. Infatti gli diceva che data la sua età non gli avrebbero fatto niente dal punto di vista giudiziario e a scopo intimidatorio gli fece vedere anche una pistola semiautomatico di colore cromato che metteva nella cinta dei pantaloni. Diceva che avrebbe potuto pure uccidere qualcuno, tanto la polizia e i giudici non gli avrebbero potuto fare niente perché era anziano. E allora, l'ultima volta che lui si è regato dal panificio, il panificatore aveva delle banconote segnate dagli uomini della squadra mobile che erano appostati proprio fuori dal panificio stesso. E dunque nel momento della consegna i uomini sono usciti fuori dalle loro autovetture e hanno arrestato l'uomo. Le successive perquisizioni eseguite nell'abitazione dell'arrestato hanno fatto trovare alcune delle munizioni che sono state sequestrate, un kit per pulire le armi, un bilancino di precisione. L'arrestato è stato portato in questura e dopo le formalità di rito è stato ristretto al carcere. Ma la spina.